Si chiama Home Care Premium 2015 ed è un contributo premio finalizzato alla cura a domicilio delle persone anziane non autosufficienti e portatori di handicap che necessitano di assistenza continua. Per coloro che hanno bisogno, perché sono anziani e non autosufficienti o portatori di disabilità, di avere un assistente domiciliare in casa, c'è un contributo che viene erogato dall'Inps. Ovviamente possono farne domanda soltanto i dipendenti pubblici o i loro parenti di primo grado o pensionati, pubblici, quindi gestione ex-Inpdap. Il contributo erogato scelerà tra un minimo di 200 euro e un massimo di 1200 euro mensili e sarà definito in relazione al valore ISEE del nucleo familiare in cui è presente il beneficiario e in base al punteggio conseguito dopo la valutazione del grado di non autosufficienza da parte del cosiddetto case manager. Deve fare domanda entro il 27 febbraio alle ore 12, si può fare soltanto telematicamente o tramite il sito dell'Inps e quindi farlo da solo, oppure potete venire presso gli uffici dell'assessorato al sociale al Comune di Teramo in via d'annunzio e facciamo noi la domanda, dovete essere però muniti di codice PIN. Normalmente chi ha una gestione già un'Inps ha già il codice PIN, altrimenti si può richiedere presso gli uffici dell'Inps con quel codice PIN e con il reddito ISEE. Ad esempio con un ISEE tra 0 e 8 mila euro e un punteggio compreso tra 103 e 120 si ha diritto al contributo massimo di 1200 euro. Quindi il contributo sarà in proporzione al reddito e al grado di disabilità.